L'evento in cui l'arte premia lo sport è un evento molto importante che ci dà anche la soddisfazione di compiere un lavoro interassessorile, quindi sono contenta che con me ci sia l'assessore Barbara Brunori da cui è partito tutto e ringrazio l'associazione che ha avuto l'idea di fare questo bellissimo evento in cui gli sportivi vengono premiati con delle opere artistiche. È molto importante perché molte volte l'arte sembra staccata dal resto della vita e sembra staccata soprattutto dallo sport, ma non è così e l'arte ci aiuta a vivere meglio in tutte le nostre situazioni, un momento importante di condivisione e di unione all'interno della città. Ci vedremo lunedì sera alle ore 8.30 al Palazzetto Lende, tutti insieme per festeggiare in questo momento in cui l'arte premia lo sport.